ma è arrivato un momento che tante tante persone aspettano ovvero il ritorno della rubrica quella sugli horror anche se oggi di horror o no flavia oggi di horror no questo possiamo no 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 non è un horror è a malapena vagamente un thriller vedi c'è dell'entusiasmo al 351 5 2 4 1 1 0 1 tu mischi cose che non sono mischiabili cioè questo non è un horror guarda allora facciamo così non ti ricordavi che non era no no io ho visto il trailer c'è un problema di base che questo film mi è stato fatto vedere credo un mese fa più o meno e c'è imbarghi cose ah perché adesso uscirà il 30 maggio quindi c'è veramente un'angoscia ci hanno fatto venire per sto film che tra l'altro è del 2023 vedi quindi la cosa si parla comunque di paura stanchezza che poi forse se ho capito bene va pure a finire su prime a un certo punto quindi proprio difficile qualcuno direbbe che come tutte le cose pesanti vanno verso il basso e scaricano verso il mare intanto sentite che ottimo sottofondo vuoi vedere il trailer io avevo visto un trailer non ho visto il film quindi recuperiamo questo questa brutta brutta abitudine stiamo parlando di aileen film tratto dal libro di otessa la mosfig con thomasin mckenzie che è l'attrice thomasin mckenzie è la l'attrice di jojo rabbit per esempio che è la bimba di jojo rabbit e anche la protagonista di l'ultima notte a soho e vabbè basta questo il potere del cane e anche tom in senza lasciare traccia qui non lo so ne parla del potere del cane ah si il potere del cane eccolo qua si e poi un'altra persona intanto faccio partire il trailer chi non muore si rivede buon pomeriggio aileen aileen è la protagonista lavora in un carcere una giornata come gli altri giorni questo è il papà la mia è stata una chicca una chicca? uh c'è Natue questa è la nuova psicologa penitenziaria io l'ho vista in inglese sono rebecca lo so sembra maccio capatondo ah eh si ma devi raccontare se no inutile allora aileen incontra è Natue quindi mi piace di notte io vedo diversamente da molte persone nel carcere mentre ha morte un carcere non è posto per una ragazza tu ti credi una persona normale hai dei sogni brillanti scommetto posso confidare questo trailer mi sa che sta mandando in cacciara tutto i propri desideri però deve promuovere ehi ehm Natue mena una persona un maschio adulto grande sono chiaro me la fai questa promessa prometto vedi thriller psicologico elegante un racconto spietatamente Hitchcockiano non ti immagino con un coltello mi immagini con una pistola è perfetto così aileen sì quello sì è Natue urla sei diversa ultimamente sei quasi interessante segreti e bugie alcune cose sono deviate che voglia alcune cose sono deviate l'unica via d'uscita è la morte allora posso dire che questo trailer non rende nulla per un piffero di nulla l'atmosfera di questo film allora però la colonna sonora interessante interessante la sto sentendo allora devo dire che io questo film sono andata a vederlo abbastanza così senza nessun tipo di illusione o pregiudizio o giudizio di qualsiasi genere sì le voci flautate quella è il doppiaggio Margherita scrive ma le voci flautate questa cosa un po' perché quando l'atmosfera si fa a cupa o un po' sensuale devono diventare subito termosifoni sfiatare subito così e invece io l'ho visto in originale quindi non vi so dare diciamo troppe informazioni su questo comunque posso recuperare il trailer ma sarebbe un doppio ma troppo allora ambientazione Inghilterra anni sessanta la protagonista appunto è Eileen ovvero Thomasie McKenzie una giovanissima ragazza che lavora come segretaria più o meno in un carcere minorile un ambiente abbastanza triste ma anche veramente poco stimolante capiamo che lei diciamo ha rinunciato a un certo punto a degli studi ad un proseguire diciamo della sua vita e si è trovata un po' incastrata in questo lavoro si occupa di un padre alcolizzato infatti non mi sembrava proprio un padre modello che è se non sbaglio un ex poliziotto se non dico una stupidaggia però insomma uno che si credo un ex poliziotto che sta a casa tutto il tempo probabilmente è stato messo a casa per questo suo problema e lei fa questa vita abbastanza monotona per cui esce la mattina va al carcere torna a casa e li finisce a un certo punto nel carcere arriva una nuova psicologa questo è un non è un carcere è un riformatorio quindi un carcere minorile però c'erano le sbarre perché non ci stanno le sbarre nel carcere minorile credo di sì anni 60 comunque quindi non so se il sistema carcerario sia rimasto più o meno uguale comunque arriva questa nuova psicologa che è Annette Away diciamo esteticamente visivamente completamente diversa da Eileen una donna a parte un pochino più grande ma soprattutto molto realizzata molto molto di moda con questi bei vestiti sempre con i tacchi sempre con il rossetto molto sensuale anche molto autonoma libera no che diciamo apostrofa gli uomini in maniera molto diretta è una psicologa donna che sostituisce un uomo perché un uomo che è andato in pensione è stato sostituito da lei quindi ha una diciamo un ruolo abbastanza di potere all'interno un ruolo importante nel carcere ed è una donna negli anni 60 quindi comunque diciamo che è una situazione complessa Eileen rimane subito coinvolta nel senso affascinata da questa donna in molti sensi anche sessualmente perché appunto rimane colpita da lei ma è soprattutto io credo la sua libertà e il suo modo di approcciarsi alle cose completamente diverso da quello della provincia monotona che ha vissuto fino a quel momento Eileen che la affascina e che la porta probabilmente a fare anche un passaggio dal punto di vista sessuale questo è cosa succede non posso dirvelo più di tanto diciamo che c'è c'entra una delle persone uno dei ragazzi che è nel carcere minorile tale Polk se non sbaglio di cui scopriremo delle cose all'interno della storia è una storia che vira a un certo punto al thriller quindi non horror no 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 zero horror vira a un certo punto al thriller e diciamo che a un certo punto si iniziano a perdere il controllo ecco della situazione è un film carino io non ho letto il romanzo di Otessa Mosfag so che ha avuto anche abbastanza successo lei è una scrittrice dell'81 che è mi pare tradotta in Italia chissà se ci ricorderemo no Feltrinelli intanto è nella casta è accreditata come come sceneggiatrice quindi Feltrinelli si fa parte della si ha lavorato anche lei alla sceneggiatura non so dirvi quanto possa essere corrispondente però immagino che ci sia è una storia ripeto molto come dire che funziona molto con degli incastri che funzionano molto non vi aspettate il capolavoro della vita però è una storia carina loro due sono molto brave questo rapporto è interessante vedere come si evolve vedere come l'una influenza l'altra cioè all'inizio abbiamo la sensazione che la più forte sia in Hathaway poi questo cambia a un certo punto lo spunta una pistola a un certo punto cambiano le cose cambiano ecco molto interessante e francamente del trailer appunto ho sentito una piccola deviazione verso il vabbè buttiamola in cacciara secondo me vogliono un po' fare la cosa donna donna che fa sempre un po' scena un po' stile vabbè insomma sempre sguardo maschile che ti controlla e ti guarda e vuole vedere le due donne che si baciano ma in realtà non è tanto questo il punto ecco secondo me cioè sicuramente la loro attrazione l'attrazione di Aileen verso questa donna è molto importante ma è più importante come modello di riferimento cioè il fatto che lei voglia essere come lei non tanto che voglia solo stare con lei ecco dal punto di vista visivo vedo che il regista William Oldroyd ma soprattutto il trailer aveva anche delle scelte un po' caleidoscopiche forse per anche raccontare la deriva psicologica la confusione letterale in realtà è un film abbastanza semplice io non so il trailer credo che l'abbia voluto caricare nella cacciara io invece l'ho trovato un film semplice che sicuramente ha dei colpi di scena che sorprendono tutti collocati nella seconda parte va detto e questa è una cosa molto importante che il film dura 98 minuti e ringraziamo il signore per questo e William Oldroyd questo signore questo signore esatto per aver scelto di essere abbastanza stretto quei tempi sempre per quanto riguarda le metriche di IMDB che è appunto l'aggregatore anche il database di tutte le informazioni cinematografiche in generale IMDB scandisco bene la valutazione su 11.980 recensioni di tutta la platea essendo un film del 2023 forse qualche persona prima è andato lì a mettere le stelline non è piaciuto 6 su 10 la sufficienza però è in crescita come popolarità quindi se vi interessa è nato e mi sembra anche molto in parte in questo ruolo un po' noir non fan fatale devo dire che è più sorprendente Eileen è più sorprendente nella storia bene 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 mi ha colpito moltissimo nel trailer perché io ho visto il trailer Flavia ha visto il film completo come si dovrebbe essere intuito dovreste aver intuito l'uso del kaleidoscopio mi ha ricordato questo brano di 14 anni fa anzi il video di questo brano The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers